da quant'è che lavoro la PEG? 16 anni cazzo non pensavo quasi tanto sì ma adesso basta se tutto va bene addio PEG e tanti saluti appena esco dalla fabbrica prendo la chiave della mia 1 e scrivo una bella lettera di dimissioni sulla portiera della macchina del mio capo troppo cattivo e allora vorrà dire che scriverò anche una bella lettera di scuse sul cofano e poi me ne vado sai mi mancherà un po' quel buco dove lavori e quelle specie di cocktail che servite vaffanculo con tutte le cose che sono riuscita a non farti pagare ci credo facevano schifo potevi comunque evitare di prendere a calcio il barista sei stato un idiota senti se l'hai meritato se io chiedo una vana voglio un bicchiere pieno d'avana non mezzo bicchiere annacquato ci vuole tanto per capirlo ok ok hai ragione infatti veniva un infarto adesso te lo puoi pure comprare quel bar non ci penso proprio con tutti i debiti che ho non vedo l'ora di andare fuori dalle palle e dov'è che vorresti andare? ma un posto vale l'altro dai apri quella borsa che cazzo è questo? cosa? come cosa? qui dovevano esserci dei soldi invece c'è solo della fotuta carta della carta fammi vedere state cercando di fottermi eh troia qui dovevano esserci dei milioni invece c'è solo della fottuta carta di merda carta carta solo carta che cazzo ci fanno questi stronzi qua? che cazzo avete fatto? io non so niente te lo giuro ah non so niente? non dire cazzate puttana ti prego scostami ti giuro che non so niente merda merda dovevi pensarci due volte prima di fottermi ora capite direzione ci Forserci segici